Marciore, è rimasto lei, sentiamo che cosa ci racconta, lei è caduta qui, com'è ? signora Zampieri complimenti signora, il burraco e un arte sottili ah già già dimenticavo che sei superstiziosa ma che io ci pensi che non lo sono affatto ma io sono una comunista sottitrice che non avevo ne ... che bene Grazie.